Buongiorno Big Family, oggi il viaggio alla ricerca delle eccellenze dei territori fa tappa a Boves, in provincia di Cuneo. Sto per farvi scoprire una meravigliosa pasticceria che produce dei prodotti tipici veramente eccezionali, ma in particolare ci sarà un aperitivo veramente veramente unico, quindi non vi resta che seguirmi per scoprirlo, a tra pochissimo. Ed ecco carissimi amici un bellissimo assortimento di tante tante meraviglie, ce n'è veramente per tutti i gusti e siamo solo all'inizio. Eccomi qua come promesso a mostrarvi il paese dei balocchi per quanto riguarda la colazione e non solo, perché del ben di Dio così lo si può mangiare a tutte le ore della giornata. Questa è solo una piccolissima selezione di quello che potete trovare in questa meravigliosa pasticceria. Io vado all'assaggio e se volete assaggiare anche voi dovete assolutamente venire a provare e buon appetito! E nelle belle giornate di sole, anche d'inverno, alla pasticceria beccaria si può anche consumare un aperitivo o come in questo caso una colazione direttamente all'esterno con il sole che ci bacia, perché noi siamo sempre più belli! Eccomi qua come promesso a mostrarvi il paese dei balocchi per quanto riguarda la colazione e non solo, perché del ben di Dio così lo si può mangiare a tutte le ore della giornata. Questa è solo una piccolissima selezione di quello che potete trovare in questa meravigliosa pasticceria. Io vado all'assaggio e se volete assaggiare anche voi dovete assolutamente venire a provare e buon appetito! Ed eccoci qua come vi avevo promesso per assaggiare i meravigliosi appetitivi filler food della pasticceria beccaria ipotesi. Come potete vedere sono delle piccole, autentiche, meravigliose, tutte eccellenze di questi territori in formato mignoso. Questo è finger food, veramente qualcosa che è molto molto glam, molto molto in. Quindi andiamo ad assaggiare! Alla pasticceria beccaria di Boves ho trovato veramente qualcosa di molto molto particolare. Questo aperitivo finger food è veramente qualcosa di unico, difficile da trovare in giro, un'eccellenza nell'eccellenza. Io vi auguro buon appetito, cin cin, il viaggio continua ma per il momento buon aperitivo! Carissimi amici il mio viaggio alla ricerca delle eccellenze del territorio qui alla pasticceria beccaria di Boves finisce qui. Ma prima di andarmi devo assaggiare assolutamente questo marocchino speciale fatto con una crema alle nocciole di primissima qualità, una crema alle nocciole piemontese. Poi abbiamo panna, abbiamo caffè, insomma una meraviglia! Io incomincio ad assaggiarlo! E' uno spettacolo! Buon appetito! Il viaggio continua quindi restate collegati e se volete assaggiare queste meraviglie venite pure alla pasticceria beccaria di Boves. Alla prossima! Buon appetito!